Ed ecco cinque ragazzacce di gran classe. Mi sa che dovrete tenere le ragazze lontane con un bastone. Accidenti, perché non l'ha portato? Beh, grazie. Vestiti magnifici. Grazie ancora, papà. Su, andate a divertirvi. Assicurati di riportarli entro stasera e non ci voglio una sola macchia sopra o sarà in punizione per un mese. Divertiti. Ok. Qualcuno oltre a me ha voglia di alette di pollo superunte? Tenaccios! Patatine, zio! Vedo l'ora! Ragazzi. Attenzione, ragazzi. Zack, tovagliolo, Lincoln, occhio a quella salsa. Sta funzionando. Sembro più felice. Questi opuscoli non mi hanno mai fatto sbagliare. Oh, io adoro questa canzone. Sai chi altro adora questa canzone? Ronnie Anne. Oh, mi sono sbagliato. Io la detesto. Ecco l'elenco dei nostri dessert di oggi. Abbiamo il biscotto a forma di cuore, il gelato in coppa per coppie e il tiramisotou. Nessuno vuole il dessert. Andremo a giocare. Io volevo il dessert. Giochiamo a Dance, Dance Revolution. Fa niente. Andiamo a guardare la tv. Oh, oh. Quella è la coppia di wrestler preferita di Ronnie Anne. Dolore e sofferenza. Oh, questo posto è una noia. Possiamo fare di meglio per il nostro pomeriggio tra ragazzi. Devo ammettere che questo pomeriggio è stato un vero spasso, ragazzi. È bello sentirtelo dire. Avverti un senso di serenità e ti senti più ottimista sul futuro? È una domanda strana, ma sì, penso di sì. Ops. Scusate, ragazzi. Vado a occuparmi di nuovo di quella cosa. Io non posso crederci. Io dico che non ha chiuso. È tornato a casa di Ronnie Anne. Oh, è davvero cotto di quella ragazza. Tranquilli, un piccolo intoppo. L'opuscolo dice che può succedere. Se la prima fase, cioè la S, non funziona, passeremo alla seconda, la B. Bellissime ragazze. Questa mi piace molto di più. Ragazzi, protezione vestiti, formazione serpente! Non si batterà sti man così facilmente! Oh, accidenti! Cosa dirò mio padre di tutte queste macchie? Oh, sta tranquillo. La pupù di uccello viene via. È di quella di scimmia che devi preoccuparti. Arriva, Lincoln. Allora, vi è tutto chiaro? Ehi, ragazzi! Ehi, amico, ti sei occupato della tua cosa? Certo! Allora, spassiamocela un po'. Che incredibile coincidenza, Zack! Non è la tua amica Renée, quella laggiù che si intrattiene nel negozio di fumetti? Hai proprio ragione, Liam! Probabilmente è in quel negozio perché è una grandissima fan di Ace Savvy. Ehi, Lincoln, sei un grandissimo fan di Ace Savvy anche tu! Devi andare a parlarle! Non lo so! È così bello conoscere qualcuno che adora Ace. quanto me! Per me è lo stesso! Wow! Questa è l'introbabile edizione limitata di Natale con la copertina variabile! Pugni di Natale! Erano secoli che lo cercavo! Anch'io! Questa è l'unica copia! Dammi! Lasciala! Credo che dovremo trovare un'altra ragazza. È una busta di ghiaccio! Ehi, Liam! Quella non è tua cugina, è ti! Cavoli e broccoli! Non avevo visto il suo destriero parcheggiato fuori, Lincoln! Va a sederti vicino a lei! È fanatica della fantascienza ancora più di te! Carciofetti, come va? Io sono Etty! Io sono Lincoln! L'hai già visto questo film, tu? Io adoro la parte in cui l'alieno diventa umano! Ma che simpatico spoiler! E questo non è niente! Alla fine si scopre che è tutto un sogno! Rusty, devi pur conoscere qualche ragazza! Beh, ecco... Già, non fai che vantarti di essere un sorprendente rubacuari! È difficile con così poco preavviso! Andiamo, amico! È per Lincoln! Ah, certo! Farò una telefonata! Ah, ecco che arriva la donna più bella del mondo! Ciao, Rusty! Sono emozionata di conoscere il gentiluomo con i capelli bianchi di cui mi hai parlato!